Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, oggi altro appuntamento con una top, in questo caso andiamo ad analizzare quelli che sono i migliori attaccanti secondo me dopo la patch come al solito, grande disclaimer, si tratta di miei gusti personali, oltre che in alcuni casi anche di ovviamente pareri oggettivi sulla base dell'esperienza mia ma anche quella di altri giocatori e di quelle che sono le statistiche delle carte che andiamo ad analizzare, non vi scandalizzate se non trovate giocatori che magari sono i vostri pupilli, non vi scandalizzate Hihihi Liberoschi, ma noi non abbiamo una lira questi giocatori, non possiamo comprarli perché comunque siamo ormai in periodo toti voglio dire chi ha iniziato a giocare da inizio anno un milioncino bene o male sarà riuscito a metterlo da parte per permettersi un top player soprattutto in attacco che è un ruolo importante ma comunque troverete anche giocatori diciamo di fascia un po' più medio-bassa senza perderci ulteriormente in chiacchiere passiamo subito sulla schermata dove ci attende quello che è il giocatore per me quest'anno più forte in assoluto tolte le icon e probabilmente anche di molte icon fatta eccezione del buon R9 a proposito, aperta e chiusa parentesi, in questo video mancano R9, Eusebio, bla 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 perché quelli sono fuori contest anche per me cioè io al momento non riuscirei a permettermeli se non vendendo tutti quindi immagino per voi sia la stessa cosa primo giocatore quindi che è Cristiano Ronaldo nella sua versione IF al solito in questo video io vado a mettere le versioni migliori delle carte in questione ma questo non toglie che comunque anche le versioni base siano valide perché se è una carta speciale e forte anche la carta base lo era assolutamente insomma un giocatore che non necessita di grossissime presentazioni Cristiano Ronaldo 1,87m, 5 di mostrabilità e 4 di piede debole 88 di accelerazione e 92 di velocità scatto 96 di finalizzazione per 95 di potenza tiro ottimi passaggi statistiche di agilità ragazzi che quest'anno si sentono veramente tanto è veramente super agile questo qui IF anche un pelo in più rispetto al base forza 79 insomma che per qualsiasi alta carta di 1,87m risulterebbe in un appesantimento per lui non succede, è molto agile, molto snello e in particolar modo quest'anno quello che lo rende veramente devastante è il fatto che quel 4 di piede debole in realtà sembra un 5 ancora di più in questa versione IF e in particolar modo il 5 di mostrabilità lo rende imprevedibile in quanto lo sapete io riputo che quest'anno sia più importante la quinta di stella skill piuttosto che di piede debole per poter fare insomma un elastico, un reverse elastico un buon roll più scoop turn che è una combo che si fa solo con i 5 skill quindi assolutamente il buon Cristiano Ronaldo si aggiudica il trono di migliore attaccante del gioco secondo me, secondo solo al buon R9 Panzer al secondo posto troviamo il suo compagno di merende ovvero il buon Kylian Bappé anche in questo caso insomma non stiamo certamente scoprendo l'acqua calda un giocatore che ha anche in questo caso 5 di mostrabilità e 4 di piede debole che però rispetto a Cristiano Ronaldo un po' si sente perché il sinistro spesso e volentieri lo butta a Faggiani super veloce chiaramente finalizzazione 95 e 90 di potenza tiro ottimo il passaggio corto e lungo un po' ottimi parametri di agilità assolutamente super agile e super reattivo io utilizzo la versione base mi ci trovo benissimo praticamente da inizio gioco e anche in questo caso abbiamo un giocatore che è molto ampio anche nei movimenti magari con un doppio passo eccetera difatti tutti questi giocatori avranno come leitmotiv tra di loro quello di essere comunque in grado di poter occupare parecchio campo quando vanno a fare che ne so una skill del tipo una finta di tiro uno scoop turn un doppio passo eccetera eccetera perché vanno tantissimo adesso i giocatori che sono sia agili sia forti fisicamente sia che hanno un'ottima falcata appunto per poter lasciare alle spalle i diretti i diretti marcatori quindi Mbappé sicuramente si inserisce in questo contesto così come lo faceva Cristiano Ronaldo e così come lo fa il buon Marcus Rashford che nonostante un'imprecazione a settimana si conferma per me molto 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 valido un metro e 86, 5 mosse abilità e 4 piede debole anche per lui come Mbappé e Ronaldo è molto agile magari qui abbiamo un po' meno finalizzazione di fatti questo si sente ve lo posso garantire perché in fase realizzativa ogni tanto l'errorino ve lo caccia passaggio corto ottimo e lungo un po' meno in questo caso vi posso dire che quel parametro di agilità non è proprio vero di fatti non è questa grandissima reattività il buon Marcus penalizzato anche da 77 di equilibrio ma devo dire che il suo lo fa assolutamente sia da punta che da esterno come lo utilizzo io va via in velocità tranquillamente con le skill fa dei movimenti molto molto ampi ed è in grado di insomma finalizzare alla perfezione tranne quando appunto gli vengono quei momenti di crisi e ve la butta fuori a me in qualifica stava facendo venire un embolo però va bene così insomma mi sento di inserirlo in questa classifica diciamo sebbene i primi due giocatori occupino assolutamente la prima e la seconda posizione di questa classifica diciamo questi qui che arrivano ora sono messi in un ordine un po' sparso il Rashford non è il terzo così come magari gli altri non saranno il quarto e il quinto diciamo che li ho messi un po' in ordine di preferenza a seguire al buon Marcus abbiamo l'ottimo Sadio Main nella sua versione Freeze 4-4 il giocatore 1,75m una saetta quindi molto molto rapido potenza tiro 90 e finalizzazione 95 tanta roba passaggio corto 87 lungo è 73 agilità 96 quindi molto molto agile grazie anche a reattività 96 forza 77 che non fa mai male per un giocatore del genere che di certo non ne viene appesantito io ho utilizzato il base da esterno per tanto tempo e non lo preferivo da punta visto che quello mi sbagliava un pochino di goal ma l'upgrade di questo qui in fase di finalizzazione è notevole per questo motivo mi sento di consigliarlo anche come punta così come anche l'IF quello base vi ripeto secondo me pecca un po' sotto quell'aspetto e lo consiglio più da esterno più che da centravanti vero e proprio ma questo qua è veramente una bella carta altra bella carta è il buon Joao Felix che secondo me si è sbloccato a prezzi contenuti vista la nazionalità e visto che in Liga non è che ci sia questa grande abbondanza e visto che l'Inca con i vari Marco Ossiorente, Gimenez Rule Breaker si può fare qualcosa di esotico con quel Torreira con quel Torreira Freeze per me è molto molto valido 5 moste abilità anche per lui e 4 di piede debole per una carta che abbiamo già analizzato nel video dedicato comunque abbiamo visto che risulta essere discretamente veloce ha una buona potenza tiro un'ottima finalizzazione ottimi anche i passaggi un po' meno il corto ottime statistiche di agilità equilibrio e reattività eccetera eccetera io l'ho consigliato sia da punta che di ACOC questo magari da esterno no ovviamente parliamo di punte quindi in questo caso tutti i giocatori che vi consiglio possono giocare chiaramente da ATT io lo preferisco in un attacco a 2 piuttosto che non attacco a 1 perché magari essendo un giocatore di 1,81m non fa il reparto da solo però è molto molto valido anche lui in fase realizzativa finalizza c'ha l'imprendibilità della quinta skill con i micromovimenti si gira veramente alla grande quindi anche il buon Joao molto consigliato così come è molto consigliato il solito Ben Yedder che sebbene sia 1,70m quindi non rispecchia proprio quello che è il meta attuale di giocatori che vanno via in velocità perché sto Ben Yedder è un Nanetto un Umpa Loompa e quindi non è che piglia questo gran campo quando viene lanciato in campo aperto è più un giocatore da dentro l'area non attacca a 2 però ha comunque quel 5 di piede debole che lo carria unito al 4 di mosse e abilità ha comunque 90 di finalizzazione anche se la potenza tiro di 85 è un po' un problemino passaggio corto ottimo e lungo un po' meno molto agile ovviamente 93 di agilità 91 di equilibrio 87 di attività con 65 di forza per 1,70m di giocatore lo rendono sicuramente molto molto rapido peccato peccato vi ripeto perché risente un po' lui come i vari Dalglish Butraghenio del fatto che essendo Bassini non hanno questa ampiezza nei movimenti che gli permette di poter essere letali negli ultimi metri ma comunque non mi sentivo di escluderlo da questa da questa classifica un'altra carta molto molto interessante è il buon Muriel qui ci addentriamo un po' in quelle che sono le carte diciamo un po' più magari accessibili se vogliamo dire così e comunque che possiamo inserire anche in contesti diversi da squadre top questo già a partire dal buon Felix Muriel che è veramente una bella carta in versione dinamica anche lui qualora dovesse fare l'Atalanta il miracolo contro il Real si andrebbe ad upgradare 1,79m di giocatorino per 4-4 86 di potenza tiro 87 di finalizzazione ovviamente non sono parametri stellari ma sono parametri più che discreti per un giocatore comunque dall'ottimo rapporto qualità-prezzo 85 di passaggio corto 62 di lungo un po' puzzolente 90 di agilità 85 di equilibrio reattività 85 forza 82 che vi devo dire la verità temevo lo appesantissero invece non è così diciamo che Muriel è una sorta di fenomeno dei poveri nonostante non sia 5-5 a livello di body type un po' lo ricorda così come a mio modesto parere non prendetemi pazzo ma in realtà Muriel ha un po' di movimenti alla fenomeno se non fosse discontinuo lui è la bamba colombiana comunque a parte gli scherzi molto molto valido sicuramente da punte non attacca a due l'ho provato anche da esterno ci può stare però in serie A secondo me è uno degli attaccanti più validi e a fare i compagni abbiamo il buon Lautaro Martinez anche qui un altro giocatore molto molto veloce di 1,74m 4,4m che dunque si inserisce nel discorso di attaccanti rapidi che possono essere lanciati in campo aperto qui purtroppo abbiamo secondo me un unico grosso problema quello della potenza tiro che 81 è veramente deficitaria ho finalizzazione 87 la posso anche accettare i passaggi sono discreti l'agilità secondo me è un po' fake nel senso che quel 94 risente molto del body type di Lautaro e di quell'81 di forza che dunque lo piantano un po' per terra però il buon Lautaro sicuramente fa il suo non mi sentivo di escluderlo così come non mi sentivo di escludere il buon Mertens con questa immagine esotica del balletto del tipo che fa il caffè al Napoli 1,69m 4,4m anche lui in questa versione rule breaker veloce veloce finalizzazione potenza tiro on top passaggio corto 83 il lungo 85 ci siamo ottimi parametri agilità questo sicuramente tra i tre attaccanti di serie A tra Muriel Lautaro e Mertens è il più agile e anche lui è molto molto valido certo come anche Lautaro e Muriel ovviamente non essendo questo gigante magari in campo aperto è un po' alla Bayheader quindi ne può risentire ma in un attacco a due può sicuramente dire la sua ultimo ma non per importanza il buon Alex Stakeshara un giocatore diciamo che è venuto fuori quest'anno 4,4m 1,84m ha messo la sua versione rule breaker perché sebbene sia un pelo più lento ha preferito il fatto che avesse statistiche migliori di tiro di fatti quell'altro le aveva un po' troppo limitanti e già questo ha quell'84 potenza tiro e quell'87 finalizzazione che non sono proprio il top passaggi siamo a posto agile risulta essere agile sicuramente 76 di forza non lo appesantisce qui anche per lui abbiamo il problema del fatto che magari lanciato in campo aperto può essere recuperato ai difensori avversari ma dentro l'area si muove veramente bene e ci riuscite anche a schillare quindi anche lui mi sembra consigliato insomma visto che comunque essendo brasiliano ha anche facilità di link con i vari che ne so Paolinho eccetera eccetera e raga per questa mia personale top 10 è tutto vi prego veramente con tutto il cuore di non triggerarvi se mancano dei giocatori che voi amate se siete fanboy di Haaland di Lewandowski di Obama Young eccetera eccetera questa è una mia personale top 10 per cui essendo personale non ci ho messo determinati giocatori che per me non risultano essere funzionali né al mio stile di gioco né secondo me al meta attuale quindi questo è quanto vi ricordo di lasciare un bel like di commentare facendomi sapere comunque sempre il vostro pensiero perché è fondamentale mi piace quando vi mettete a dialogare in maniera civile nei commenti e vi scambiate le opinioni io vi leggo sempre faccio come il grande fratello vi osservo vi ricordo di lasciare un like vi ricordo di iscrivervi al canale che stiamo andando una bomba e voliamo per tutte quante le info sulle live giornaliere invece trovate in descrizione appunto tutto quello che vi serve è nulla ragazzi a me non resta altro che salutarvi e augurarvi buona giornata ciao ciao